Esistono fotografie facili da fare e poi esistono fotografie difficili, dove dobbiamo essere un po' più tecnici. Nel corso di questo video vado a parlarvi di due casi in particolare in cui mi è servito essere un pochino più tecnico per realizzare delle fotografie esattamente come le volevo io, con degli artifici che andremo a vedere. E vi parlerò anche di questo, una novità introdotta da Nisi. Per chi non lo sapesse, Nisi è un brand di grande eccellenza che produce filtri per fotocamere. E questo è il suo nuovo kit con i filtri magnetici di cui andremo a parlare nel corso di questo video. Vi consiglio di seguirlo fino alla fine perché andremo a vedere dei casi in cui avere un filtro ti permette di fare delle cose che altrimenti non avresti mai potuto fare. E una volta che vi avrò detto quali sono queste cose, credetemi, non potrete più farne a meno. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni. Non ho sempre usato filtri in vita mia e non ho sempre ricercato cose ipertecniche in vita mia. Per la verità non le ricerco neanche adesso. Ma quando mi capita l'occasione, mi piace moltissimo essere in grado di mettere in campo un qualcosa di più tecnico del solito per riuscire a raggiungere un risultato che la maggior parte dei fotografi intorno a me non riesce a conseguire. Ora, prima di cominciare, io invito tutti quanti a mettere un like a questo video sulla fiducia e a iscriversi anche al canale. E nel corso di questo video lo capirete da soli perché vi è convenuto iscrivervi. Cominciamo col parlare del primo caso. Sicuramente avrete già sentito parlare di tempi in fotografia. Nel caso non fosse così, vi invito ad andarvi a recuperare i miei video sul canale in cui parlo dei valori che possiamo impostare per il tempo della nostra fotocamera. In sostanza, nel momento in cui noi facciamo una foto, molti di noi avranno familiarità con lo smartphone, quando noi facciamo una foto con lo smartphone, di solito la fotografia viene catturata in una frazione di tempo molto breve. Questo ci permette di avere le persone, tutto quello che c'è nella fotografia, perfettamente cristallizzate e quindi non vediamo movimento. Con una macchina fotografica noi possiamo allungare i tempi di posa e questo significa che se un oggetto si sta muovendo non viene più cristallizzato esattamente dove si trovava al momento dello scatto, ma viene cristallizzato lungo un periodo di tempo in cui si è venuto a trovare durante il quale il nostro otturatore rimane aperto e cattura la luce. Questo ci permette di realizzare delle scie. Noi possiamo avere la scia dell'oggetto in movimento. Ovviamente a seconda di quanto tempo impostiamo, possiamo avere una scia più o meno lunga, un movimento più o meno evidente. Questa è una cosa che si può usare per esempio per fotografare car trail, ovvero fare le scie delle automobili durante una fotografia notturna, oppure si può usare per catturare il movimento in una scena urbana. Insomma, ci sono diversi contesti in cui si può utilizzare e a mio parere uno dei contesti più appaganti è l'acqua. L'acqua per talete era l'archè, l'inizio di qualsiasi cosa, la fonte della vita, probabilmente aveva anche in gran parte ragione. E quindi fotografare l'acqua è una cosa che secondo me dovrebbe piacere un po' a tutti, perché è veramente affascinante. Ora, noi possiamo fotografare l'acqua in tanti modi diversi. Possiamo fotografare l'acqua in maniera rapida e cristallizzare il suo movimento, oppure possiamo allungare i tempi e avere l'acqua che si trasforma in questo specchio perfetto, privo di imperfezioni. Trovandomi per puro caso sul lago di Como, ho deciso di sperimentare proprio in questo senso. E quello che ho fatto è stato utilizzare il mio fido amico iPhone come trigger per far partire e fermare lo scatto. Sì, perché dovete sapere che le nostre fotocamere tendenzialmente lavorano fino a 30 secondi. Noi possiamo dargli massimo 30 secondi di posa lunga alle nostre macchine fotografiche, ma se stiamo lavorando in modalità bulb e quindi utilizziamo un telefono o un accessorio per far partire lo scatto senza più toccare la macchina, possiamo estendere il tempo di posa pressoché all'infinito. In particolare io ho fatto degli scatti da 4 minuti e mezzo e 5 minuti e mezzo. Ve li faccio vedere in questo video. Come potete vedere abbiamo questo effetto seta sull'acqua e abbiamo le persone che camminavano sulla passatoia, che comunque erano tante, che vengono quasi completamente cancellate, salvo qualcuno che malauguratamente è rimasto fermo proprio durante tutta la posa e allora si vede qualche fantasma. Però c'era tanta gente che passava di lì, la maggior parte è stata cancellata. Quindi questa è una cosa che si può utilizzare sia per cancellare le persone, quando vogliamo fare una foto di uno spazio dove c'è gente che passa e vogliamo però lo spazio vuoto. Se facciamo più pose su tre piedi, facciamo più scatti con delle pose lunghe, prima o poi avremo tutta la scena pulita e potremo andare semplicemente in post-produzione a rimuovere quelle poche persone rimaste. La seconda cosa che succede, come potete vedere, è che l'acqua, e tenete conto che il lago era anche mosso, l'acqua diventa perfettamente liscia, creando un effetto innaturale, onirico ovviamente, però molto appagante e il gesto tecnico per catturare una scena come questa parimenti, a mio parere, è molto appagante perché è una scena che non vedi con gli occhi. È una scena che puoi catturare così ma nessuno può vederla così e quindi la fotografia scattata in questo modo sicuramente avrà l'effetto di stupire. Ovviamente ci sono degli effetti anche nel cielo. Come potete vedere in alcune delle fotografie che ho fatto, in altre purtroppo no. In alcune si vede il movimento delle nuvole in cielo. Anche questo, a mio parere, è molto bello e ci fa capire che è stata usata una posa lunga. Se avessi avuto più tempo, perché poi la luce cambiava molto rapidamente, se avessi avuto più tempo potevo provare a fare una posa ancora più lunga. Ora però, tutto questo è impossibile da fare senza l'ausilio di un set di filtri. E questo perché? Perché se io sto scattando una fotografia e la catturo in pochi istanti, l'esposizione va bene, ma se io allungo i tempi di posa, la quantità di luce che entra farà venire fuori la mia fotografia completamente bianca. In gergo si chiama bruciare la foto. E non esistono parametri che mi permettano di ovviare a questo problema, perché la macchina è pensata per lavorare fino a 30 secondi. Già così potrebbe non essere sufficiente, ovviamente. Anche se io ho impostato gli ISO più bassi, anche se io ho impostato il diaframma più chiuso, di giorno, se scatto a 30 secondi di posa, già potrebbe essere sovraesposta o anche completamente bruciata. A maggior ragione, se estendo il mio tempo di posa in modalità bulb e lo faccio arrivare a 4 minuti, la fotografia è garantito che sarà completamente bianca, completamente bruciata. Ecco che entrano in gioco i nostri filtri e adesso vi faccio vedere come funziona questo kit, che secondo me è molto ben strutturato. Innanzitutto abbiamo case rigido, brandizzato Nisi, che io trovo molto bello, oltre che molto utile. All'interno il prodotto si presenta così. Sostanzialmente è un panino, ragazzi. Guardate che bel sandwich. È un panino di filtri e sono magnetici. Quindi quello che succede è che noi andiamo a ruotare e una volta ruotato possiamo staccare il coperchio. E questi filtri funzionano tutti così. Quindi sono magnetici, vado a contatto e non si stacca più ed è duro. Quindi non vengono via per sbaglio neanche a morire. Dopodiché se lo ruoto in posizione non viene proprio più via del tutto. Così è bloccato. Però non c'è più la vite. Quindi a differenza di altri filtri dove dovevamo stare lì ad avvitare, trovare la posizione, questi no. Questi sviti, tiri via, rimetti, richiudi. Puoi anche non richiudere mentre stai lavorando. Tanto non si staccano, garantito al limone. Ora, in questo particolare set noi abbiamo tutta una serie di filtri. Abbiamo coperchio posteriore e coperchio anteriore che sono entrambi calamitati. Quindi entrambi brandizzati in easy vengono via se li ruoti e poi ritornano in posizione e li riruoti in posizione chiusa. Quindi molto pratico, molto veloce da usare. Dopodiché noi qui abbiamo in sequenza abbiamo un filtro black mist, abbiamo un true color CPL, quindi un polarizzatore circolare. Dopodiché abbiamo quattro filtri ND con diverse gradazioni. Comunque capite che è un kit bello completo perché in un'unica soluzione abbiamo praticamente tutti i filtri che ci possono servire nella maggior parte dei casi. Abbiamo il black mist che ci può servire se vogliamo una ripresa un po' più cinematografica. Abbiamo il polarizzatore che ci può servire per togliere i riflessi o eliminare la foschia. Abbiamo i filtri ND che ci servono proprio per tagliare la luce in entrata. Quindi se sussistono delle casistiche in cui vogliamo per esempio scattare con un diaframma apertissimo esempio f1.4, f1.2 e c'è troppa luce e dovremmo andare magari a intervenire su altri parametri ma non possiamo per qualsivoglia motivo con un filtro ND messo davanti al nostro obiettivo tagliamo la luce in entrata e possiamo scattare con i parametri che più ci piacciono. Oppure possiamo allungare la posa per ottenere un effetto come quello che vi ho fatto vedere. Nel caso di questo scatto sul lago di Como io stavo utilizzando il True Color CPL e stavo utilizzando l'ND da 8 e l'ND da 16 quindi avevo messo ben tre filtri. Ora se ricordo bene Nisi garantisce che su un 15 mm si possono mettere fino a due filtri senza incorrere nel problema della vignettatura. Nel mio caso io ne ho messi di più di quelli che venivano suggeriti quindi un pelino di vignettatura l'ho riscontrata ma chiaramente ho contravvenuto a quanto dichiarato dalla casa che suggeriva di non metterne più di due. Vi porterò comunque altri esperimenti in video futuri perché comunque questo credo che d'ora in poi verrà con me molto spesso visto che si tratta in ogni caso di filtri di alta qualità come Nisi da sempre garantisce e quindi probabilmente li rivedremo molto spesso in altri miei contenuti ma non è finita qui perché oggi vi porto anche una seconda casistica. Mi è capitato in questi giorni di realizzare un altro shooting presso una boutique che si occupa di abbigliamento non voglio dire di lusso ma comunque abbigliamento di fascia alta e dovevamo realizzare delle fotografie che servivano per gli scopi più disparati quindi il sito web la comunicazione diverse cose e quello che ho pensato per proporgli qualcosa di un po' diverso dal solito è stato di allestire un set con delle luci disposte in un determinato modo e volevo scattare con l'85 mm f1.4 di cui ho già parlato in video precedenti in maniera tale da avere delle proporzioni perfette le figure belle slanciate e da sfocare completamente lo sfondo tra parentesi le persone in questione non sono riconoscibili perché abbiamo deciso di non includere i volti nelle fotografie quindi si vede solamente la corporatura con i capi indossati ma non si vedono le fattezze del viso che cosa succede però impostiamo la nostra scena impostiamo le nostre luci e quello di cui mi rendo subito conto è che la potenza minima dei miei flash non è sufficientemente bassa per permettermi di scattare la f1.4 io sto scattando con una Canon EOS 5D Mark II la massima velocità di sincronizzazione che ho riscontrato con i miei flash che sono i flash di Godox gli SK402 la massima velocità di sincronizzazione che ho riscontrato è stata di un 125esimo se andavo a un 160esimo già avevo il problema della mancata sincronizzazione quindi vedevo le bande nere fastidiosissime che si riscontrano quando la velocità di sincronizzazione del flash è errata per cui ho dovuto scattare a un 125esimo non potevo tagliare più luce ambiente di così stavo lavorando ovviamente a ISO 100 e la potenza minima dei miei flash che se ricordo bene è un 64esimo non era sufficientemente bassa da permettermi di lavorare con serenità e allora che cosa si fa? per fortuna avevo con me questo kit di Nisi e ho potuto montare il filtro ND non mi ricordo più quale e questo mi ha consentito di tagliare abbastanza luce da lavorare a f1.4 nonostante la potenza dei flash fosse comunque elevata ora una particolarità di questo set di Nisi questo è un set magnetico che si attacca alla nostra fotocamera mediante degli anelli adattatori che sono adatti a ricevere il magnetismo di questi filtri questo qui è il filtro da 77 mm quindi quello che succede è che io ho la mia fotocamera io vado a montare sul frontale della mia fotocamera il mio adattatore da 77 mm ok in questa maniera l'ho montato se io avessi avuto un'ottica di diametro diverso all'interno del kit ci sono altri adattatori per altri diametri e quindi possiamo adattare questo filtro più o meno a qualsiasi obiettivo noi abbiamo nel caso non ci fosse proprio il nostro nel kit possiamo comunque comprarlo a parte a questo punto che cosa facciamo noi abbiamo qui i nostri filtri noi possiamo andare a scegliere per esempio che vogliamo montare questo il movimento che dobbiamo fare è semplicissimo noi abbiamo una tacca segnata in bianco qui sull'obiettivo e abbiamo le maniglie sui nostri filtri quello che facciamo è che andiamo a metterli non corrispondenti ma sfasati il filtro si attacca magnetico e a questo punto possiamo ruotarlo in posizione e bloccarlo una volta che l'abbiamo montato possiamo andare nello stesso modo quindi ruotiamo e togliamo possiamo andare a rimuovere il coperchio e i nostri filtri sono pronti a lavorare per noi e possiamo andare a toglierne o aggiungerne a seconda del nostro bisogno in maniera molto più rapida rispetto a prima è veramente molto più pratico non dobbiamo più stare ad avvitare a diventare matti una volta che l'abbiamo montato possiamo tenerli sempre in posizione possiamo aggiungerne o toglierne così come ci viene e una volta che abbiamo finito andiamo a rimettere il suo coperchio magnetico e possiamo anche riporla così devo dire personalmente sono stato molto contento di questa collaborazione con Nisi primo perché io conosco Nisi la sua fama la precede io mi ricordo che utilizzava Nisi per esempio Eric Colombo un fotografo paesaggista se non conoscete andatevelo a scoprire su Instagram perché merita davvero lui è veramente molto bravo ed è una delle mie fonti di ispirazione veramente molto bravo gran fotografo e lui mi ricordo che ha utilizzato spesso Nisi nei suoi contenuti inoltre devo anche dire con grande piacere che ho riscontrato due cose molto positive dei filtri di Nisi la prima cosa quando dicono che i loro filtri non introducono variabili cromatiche è vero nel momento in cui scattiamo con questi filtri il colore rimane quello che era prima dell'applicazione del filtro l'esposizione può cambiare la polarizzazione può cambiare ci sono ovviamente delle differenze se no non avrebbe senso mettere i filtri ma il colore rimane quello e la seconda cosa su cui ero ancora più dubbioso perché stavo scattando con una fotocamera piuttosto vecchia la messa a fuoco la messa a fuoco con su un filtro ND funzionava sono riuscito vabbè non senza qualche difficoltà perché è una fotocamera comunque vecchia e la scena non era facilissima però sono riuscito comunque a mettere a fuoco con la messa a fuoco automatica della EOS 5D Mark II con sul polarizzatore sono riuscito comunque a mettere a fuoco correttamente la mia scena nonostante il filtro ND devo dire che in diversi altri contesti mi è capitato di montare altri filtri e la messa a fuoco diventava molto difficoltosa non si riusciva più la macchina non riusciva più a mettere a fuoco a causa del filtro ND per chi fosse interessato vi lascio come sempre i link in descrizione quindi potete andare a scoprire che cosa c'è dentro questo kit e non è l'unico ce ne sono anche degli altri questo sistema con l'attacco magnetico è molto più comodo rispetto ai vecchi filtri a vite ci consente inoltre di mettere togliere mettere togliere senza andare a usurare il filetto delle nostre viti che è una cosa che a me personalmente ha sempre dato molto fastidio sapete che ogni volta che andate ad avvitare qualcosa potenzialmente se prendete male l'indentatura della filettatura potete andare a usurarla prima o poi non si riescono più ad avvitare filtri o si incastrano con questo sistema questa cosa fa parte del passato perché qui si tratta semplicemente di attaccare magneticamente e poi girare in posizione ma una volta che è attaccato magneticamente non c'è più attrito praticamente va dentro da solo e non c'è la minima usura da questo punto di vista devo dire secondo me è un'invenzione veramente molto riuscita e in particolare questo kit secondo me è molto completo perché veramente andando in giro con questo hai tutto quello che ti serve black mist polarizzatore filtri nd da miscelare tra loro quindi da usare a seconda di quanta luce vuoi tagliare hai veramente tutto ed è una soluzione tutto sommato compatta e molto comoda da usare volendogli proprio trovare una pecca non ci sono tutti gli anelli adattatori per tutti i diametri disponibili sul mercato ce n'è qualcuno ci sono i maggiormente utilizzati se abbiamo dei diametri strani o particolari dobbiamo andare a prenderci un anello adattatore ulteriore per andare a montare il nostro filtro però i più comuni ci sono quindi l'82 il 77 il 67 mm i più comuni i più utilizzati ci sono tutti a questo punto amici come sempre fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate avete mai fatto fotografie con pose molto lunghe l'avete trovato divertente oppure l'avete trovato snervante è un po' come andare a pescare bisogna rimanere lì fino a quando la fotografia non ha bocca e invece avete mai utilizzato i filtri per fare fotografia in studio è una cosa che a me capita raramente però quest'anno mi è già successo due volte ben due volte e devo dire che mentre la prima volta stavo usando dei filtri ND non voglio dire il brand però li avevo acquistati io e non erano di qualità fenomenale era il filtro ND variabile che ho sempre utilizzato io prima di avere questo kit era un filtro di qualità non eccelsa non mi vergogno a dirlo e ho avuto diverse difficoltà a mettere a fuoco la mia scena invece con questo filtro vuoi anche perché ero reduce da quelle esperienze quindi magari ero più sgamato però anche lavorando normalmente devo dire che ho fatto molto meno fatica e il risultato finale era perfetto da subito mentre prima con il filtro variabile avevo fatto un po' di fatica e anche questa devo dire secondo me questo è un grosso plus questo kit non ti dà un ND variabile un ND variabile è un ND che tu lo giri e ti cambia l'esposizione in macchina è una cosa che può essere molto utile se stai facendo video è una cosa che può pure essere utile se fai fotografie però hai una lente diciamo analogica che gira quindi non hai degli scatti non hai degli scatti prefissati e questo significa che se la giri un po' di più o un po' di meno ti cambia l'esposizione in maniera anche imprevedibile questo kit ti mette in condizione secondo me di lavorare meglio perché hai degli step quindi puoi aggiungere il 64 aggiungere il 16 ma sono step prefissati quindi una volta che li hai messi anche se tocchi qualcosa l'esposizione non cambierà più perché gli step sono fissi e sono quelli secondo me questo è un ulteriore plus che ti aiuta a entrare nell'ottica di lavorare bene dal punto di vista della ripresa che stai facendo poi se uno vuole utilizzare un filtro variabile esistono anche quelli però io devo dire lavorare con degli step prefissati a me soprattutto in questa fase è servito molto mi ha aiutato molto perché ti dà una quadratura l'esposizione è quella mi regolo su quella o metto il 4 o metto il 16 e poi me lo faccio andare bene mi regolo di conseguenza però non ho quella continua variabile anche con uno scarto molto breve quindi magari l'esposizione che cambia di pochissimo e non riesco più a gestire gli altri parametri perché ho girato magari di un quindicesimo di grado e già mi cambia qualcosa ma non riesco a compensare in macchina devo dire da questo punto di vista secondo me mi è anche servito come esperienza fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate trovate ovviamente i riferimenti di questo kit in un link che vi lascio sia in descrizione sia nel primo commento vi ricordo di iscrivervi al canale perché riparleremo di questo kit sicuramente lo utilizzerò di nuovo e quando lo farò ve ne parlerò prontamente per farvi vedere i risultati signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi io e Nisi vi diamo come sempre appuntamento al prossimo video a Grazie a tutti.